Stiamo raggiungendo la manifestazione dei soliti italiani truffati, questa volta però in maniera pesantissima dalla congiuntura governativa, dalle norme governative applicate contro i cittadini e a favore delle banche, è una delle cose più schifose che questo regime di cialtroni possa aver finora fatto. Come al solito le manifestazioni si arenano qui di fronte ai blocchi polizieschi, il Parlamento è assolutamente non raggiungibile anche se qui, lo diciamo con la massima tranquillità, buona parte dei deputati e dei membri del governo meriterebbe di essere linciato se ci fosse una popolazione degna di questo nome, cittadini coraggiosi avrebbero il coraggio di agire, chiedono elezioni subito, elezioni che non ci saranno evidentemente. attiva, contibuita, contibuita, contibuita. sull'anno, poi cel'era di Fischia, sull'anno, a seconda abbia voto di file, Moovitale, grazie a tutti, c'era fatto il 24 ottobre, val hermano, Mark Stav skies paris. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.